Le foto senza estetica della fidanzata di Kenyaman, Diletta Leotta, hanno sorpreso tutti. Le foto di Diletta Leotta, la cui vita privata è stata sotto i riflettori della stampa turca dopo la rivelazione della sua relazione con la celebre attrice, hanno sorpreso tutti. La notizia con titoli come, l'amante di Kenyaman l'estetica di Diletta sorpresa, la meraviglia estetica di Diletta Leotta, ha attirato l'attenzione. È stato riportato al telegiornale che Diletta Leotta, che aveva l'estetica del naso e del seno, in seguito ha allargato le labbra con i filler. La celebre speaker ha spiegato in un'intervista pubblicata in Italia di aver fatto il suo primo intervento di chirurgia plastica all'età di 18 anni. Queste dichiarazioni del bellissimo oratore sono state incluse anche nelle notizie della stampa turca. Diletta aveva detto prima. Mi sono fatta fare il naso quando avevo 18 anni. Questa è la mia faccia e ho la libertà di fare quello che credo con essa senza essere giudicata. Non ho fatto la chirurgia plastica per una buona carriera.